Stai in chat, giochiamo insieme Non hai capito che oramai il mondo è una merda Eh, devi pigliare quelle poche persone che conosci e ci giochi Noi giochi con tutti, io se non ho rubato l'arma Io prendo i colpi, bene Arca madonna Vado Vado Vado, spacca a destra Prendi Prendi Non cazzo Vieni verso Opa Vieni qua No, anti Alto 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 Quanti mini Quanti mini Quanti mini c'hai È bella mira che c'ho Mamma mia Che schi Vieni qua Lo facciamo questo Vieni qua La vera Te ne voglio entrare ragazzi Eh, io sì Io praticamente sì Sto tryhardando greve Eh, questo è bello Questo è tryhard Troppo forte Ti avrei Avrei già fatto Avrei già fatto Avrei già fatto Avrei già trovato tutto Oh, seggi Io ho le prove Un momento Io ho messo il colpo Ma dove Tu stai sognando Io vi ho messo Io ho messo il colpo Io ho messo il colpo Tu hai l'altra Schi Tiro white Mamma mia Il best player in ita Orcoddio Mi sono morto? Prima, a questo mi ha fatto un infarct 130 Ho un one shot 130 Calma Ciao Nicolà Aiuto 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 Eh, non solo Aiuto aiuto se da la bustana a parte della mamma Vieni qua Eh, sta ancora avanti il zuccia che ha azzerlo Porca Va dentro, va dietro, va dietro Certo E' qua E' qua Ah, questi mi mettono l'ansia Eh, ovvio Sì, c'è Com'è qua Ma vorrei svegliare il pg ma che è qua? Fatto il 2 Certo Certo E' qua Ah, ma che amprano tutti Ragazzi, sono 15 kg Aiuto 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 E' scarso Troppo scarsi i 15 kg Guardate, non mi serve, non mi serve Dai dai, aiuto Vabbè, vabbè, vabbè Non mi importa Non è buss, non è buss Non vado Eh Eh Sto sanno in ettico Sto sanno a bacco Sto sanno in walk Sto sanno in walk Avanti Eh, po, continuano a knockarne 86 Troppa porta ragazzo Ragazzo, dai C'è rilascia per passare Do' stanno ora cos'è? Sono lì in volo, guarda qua Ma Michele è chi? Ma poi Michele, non Michele Michele? Mi scocciano da dire Michele Per un mò, oh! E' villare questo Ah questo c'ha, no questo non fa andare via Ha lo spasso questo Che cazzo hai fatto scappare dai, pezzo nel nostro E' mega vantaggio, e' mega vantaggio E' mega vantaggio, più forte del mondo Ovvio Oh questo Sono andato io? Ah ci rispettiamoci Sono morto No non ci credo Vorrei da questi e' proprio uno scandalo Guarda ma questo camperà nella porta Ma che devo fa' Siamo da te, dove scappi? Dove vai? Sto curando, guarda avanti Box avanti Axel ci abbandona E' ma chi l'ha? Ma chi l'ha? Dove lo? Ma chi l'ha? Ma chi l'ha? Bye bye C'è l'altro pure Ma che skin ho ucciso ora? Sì, non è così. Sì, ora. No, ora faccio il piglio e poi non scappi. Vai. Sì, ora, non c'è la mia domanda. È morto. Non c'è. Non c'è. Ah, prendi. Non c'è la mia domanda. Non c'è la mia domanda. Non c'è la mia domanda. Molto. Ma ragazzi, non c'è la mia domanda. Eh, io mi sto augurando. Ah, ragazzi. A zero di ping sto tizio. Ah. Ho lasciato dei mili là dentro. Avanti a me, un gruppo di F. Sì, non c'è la mia domanda. È morto. Sì, non c'è la mia domanda. È morto uno. Un altro. Un altro. Un altro. È una pistola che fa così, eh. Un altro. Guardto come quello che non ti ha un aereo. E' il telebot li servo... Tu c'è l'ho tutto, Manu. Molto. C'è l'ha tutto. E' tutto. Tutto. Non ho preso nulla. Daaaah abbiamo solo 29 kimse, ragazzi. Ho riuscito a fare il record. Ma ce n'hai 8. Ce n'hai 8, ma ha 14 assist, cioè... Ah beh, dove andiamo a vedere gli assunti? Hai visto? 150 Eh, dove sei tu? Sto facendo la carta via Ah, dove? Ci vai da rompì A sinistra Sento 150 Eh, primo assist l'abbiamo fatto Uno degli altri Sento Lasciatene uno, lasciatene uno, ragazzi Lasciatelo Eh, come faccio? È andato, è partito il dito, scusate Eh, però Eh, sì Eh, però c'è, ce l'ho davanti Premo Eh, ma così restava tutto il team Non c'è rimasto il 3 team È in volo Eh, devo... 24 Diplo 24 Io No, più di 40 kill Non si possono fare questa modalità, comunque Eh, ma devi lasciare il team Eh, lo so Eh, cerchiamo di lasciarne uno in vita, qua Eh, vanno su 3 team Parto uno Sarò 1 kill solo Senti Senti Aspetta il secondo Eh, aspetta 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 Eh, aspetta 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 Eh, 2, 2, 2, 2 Eh, forse un team da 3, qua Eh, lasciamole, lasciamole Senti 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 No, ragazzi, sono morto No, ragazzi, ragazzi, lamentami Mi prego Non è vero che sei morto Però, guarda quanta vita c'ho Una mano Stanno entrando full Molto Anzes Anzi La moriamo, eh Concentrazione Centrata Dai, ce l'ho di merda Sono morto, gerade Non puoi morire tu E станé morto lui, eh sì Marcoddio DAAAAAAAA exatamente Oh no Non muoio, rax è vero che ha un hp ah ragazzi io spengo sul ciavolo di cristal la mano sudatissima ma cos'è ma tu che stai ah no ma tu stai a roma non hai provato l'anticominaio tu no ma se no è una merda ecco qua ecco qua sta a rubire 15 che è una merda non ho capito che cosa non puoi avere un cazzo che vuole cadere ecco qua ho un hp non ho capito mi vedo un giga shad davanti mentre faccio una scala raga ma non c'è nessuno ma infatti sta partita da merda io che faccio un po' di kill ho due kill ma mo c'è il singolo? io? eh, proprio a singolo c'hai vado a cercare gente è venuta così poca gente a pinnacoli guardate la mia vita guardate la mia vita perché sto costando la leva, scusate con una spara singolo anche una mezzo tac oh ma è mezzo invisibile sta pagato, che figlio bua ragazzi, cioè non c'è gente siamo seri? ma se vi c'è, non c'è ma c'è davvero pochissima gente si, non c'è nessuno io ho passato da me la sera bravo guardate la mia attacca 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 bendolt significa che ma che cosa stai azzurrando? un... comemm e monta allora ti devo fare te uccidere da questi ah vinto la mia squadra però non puoi partire la saggianta ma non c'è gente madonna che picciolo c'è un po' di far più conto c'è gente a mo' scusa, eh scusa, non la vedo stavo forse full destra ragazzi salvatore ahhh 150 questo brobio bravo 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 che hai fatto box che bella partita noiosissima ma è troppo noiosa oltre 50 anni ma che vuole da tutto il tempo la copola eh sono morto ma quanto godo faccia di merda ci impariamo a cucciare dritti vuole far morire? dammi l'impulso niente fuori te come uno vuole a D non a sinistro guarda che l'ho sentito che ce l'ha caricato è la foto che ci ha fatto il mondo fratelli nai sono qui mamma mia fratelli nai sono qui sono qui sono qui vanno i simpatici niente non c'è un movement non c'è problema non c'è problema non c'è problema non c'è problema è ovvio è ovvio è ovvio ma perchè non mori? pezzote è me non c'è problema semmi vabbè c'è un po' più drastica non c'è problema c'è chi è un po' più drastica c'è delta mi piace vieni da qua vicino a me come sta? mi sei morto, non me lo nessuno troppo forte qua, mi sono solo un 100, 100, siamo in full teamer bush, tanto a me dai questo da killare dai, mi prego, diamoci ste quattro che usci insieme a me, mi butta addosso io continuo ad essere buoni ah ragazzi questo non lo vede c'ho un full team da quattro che fa schifo davanti a me 66 c'ho vita, c'ho vita, c'ho vita, non vi curate da senza di me, vabbè c'ho medikit, c'ho medikit, dove stai in pieno non piangere ti prego non piangere c***a, uno di rampino non ci rimanere male 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 che noia p***a p***a c***a non c***a è essere pure per chi la capite quanto questo gioco sia una m**che devo morire da questo io non me lo merito metto il gol assalto guarda vuoi botta il syndica se stesso ma basta lo vedo per favore non cambierai non ci rimane romano no mi sarò tutti allora facciamo fare tanti stanno ancora in venti dobbiamo farne 50 sono usciti in bollo io volevo morire no almeno se devi fanare il cento aiuto, aiuto! dai! puoi gozare dai! non c'è più nel tuo prime son 4-5 persone e non lo so dai non lo trogliamo a prendere, non vorrei riparo hai dovuto darci una mano a Merazza, perché c'è un team forte qua il fatto è che questi aprono un patch fastidiosi ragazzi voglio morire sono troppo giovane allora a la parla 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 a parla il need a orla magari c'è un team nel palazzo di pinnacoli camperado qua fatto uno stanno sotto, stanno sotto no, no, sono tre, sono tre, non è uno, Filipe sono sotto la scala io uscirei a sette a sette guarda, se abbiamo dato una mano li facciamo, cioè non ci vuole un piatto ok, ok, ok oh mio teo mettiamo un ultimo in safe madonna questi però ti arrumpi i coglioni è attaccato o no? non lo killiamo questo, Teo l'ultimo? si, non lo killare allora non risponono più, killati, killati marica su me, marica sono pure bloccato, scaccia pure il mezzo eh, siamo... te l'ho morto... no, te l'ho morto, non ci credo sono da te, sono da te quanti sono questi? ah, due che girano intorno no cacare, cioè va beh, basta, basta è arrivato l'ultimo, regà dai, poi se lo si fa in trickshot, non si fa, no? eh, mi correggio che tu hai, io ce la... non ce la pistola, e non te lo mangiate, cerco di farlo in trickshot della pistola, dai? dai, abbiamo giusti a scuole o fa le... e poi avevo le batterie, ho le spaglioni, ma non ci scuole non ci scuole, non ci scuole, non ci scuole non ci scuole, non ci scuole non ci scuole, non ci scuole dove sta? ah, era di romaccio, dai dai, 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 dai questa vita c'ha? è un po' c'è, dai sta provando? 36 dai, raguse ok, è ok, un hit è un po' c'è è un po' c'è è un po' c'è è un po' c'è è un po' c'è